Siamo a Quassalmonte in compagnia di Simone Bonomi, proprietario della cava e del castello che siamo venuti a visitare. A che periodo risale il castello, Simone? Il castello di Quassalmonte è stato costruito sulle tracce di costruzioni di epoca romana, ma le strutture principali risalgono all'epoca Longobarda, quindi al basso Medioevo, più precisamente attorno alla fine del VI secolo. E la cava? Dunque la cava che è qua vicina è attiva dalla fine dell'Ottocento e in essa si coltiva il porfido rosa della Val Ceresio, un materiale tipico e peculiare di questa zona, che è una pietra di origine vulcanica che si è formata 300 milioni di anni fa, quindi molto più indietro. Una pietra per le sue caratteristiche, sia come colore, come durezza, molto caratteristica della regione del lago di Lugano. Alla nostra idea, grazie al supporto della nostra famiglia, per un luogo di mio papà, ma anche della cava stessa, abbiamo voluto ridare luce e proteggere questo posto, diciamo così magico e particolare della nostra regione, proprio per strabaguardarlo e in futuro per fare interventi grazie ai quali poterlo rendere fruibile anche alle persone. A Isur ringrazia. Grazie, grazie a voi della visita.